Da ieri mattina al liceo classico Carmine Silos si respira un'area nuova e c'è un po' di spazio in più. Tutto frutto delle ben 16 aule, più ovviamente bagni e servizi, che lo stoico istituto è riuscito a far sue e fondamentali per consentire una didattica finalmente completa ai circa 800 iscritti. Fino a qualche tempo fa, infatti, proprio per la mancanza di spazi, gli studenti erano costretti a lezioni e corridoi, in posti angusti, in aule non proprio adibite a tal fine, con non poche problematiche. Situazione difficile che sarà soltanto un ricordo. Gli spazi recuperati, fondamentale è stato il lavoro anche di pitturazione del personale ATA, sono quelli dell'ala di via Baticchio e del vecchio liceo linguistico privato. Avranno dai 22 ai 25 banchi e, grazie a un finanziamento europeo e ministeriale, molto presto avranno anche la LIM e la rete didattica. Il merito di questo risultato, però, è di una fondamentale sinergia tra regione, scuola, città metropolitana e comune, il cui esponenti ieri non potevano mancare. Si è raggiunto il risultato attraverso la collaborazione di diversi enti, enti locale, comune, la città metropolitana, politici locali come Giovanni Blocacci, anche altri che hanno altri, come il presidente del consiglio d'istituto, che ha collaborato perché si potesse ottenere questo risultato. I lavori da fare, però, non sarebbero finiti perché è necessario adesso una pedana per i diversamente abili e risolvere l'annosa questione riscaldamento.